Il tema Il tema di questa terza conversazione sulla terza edizione del messale romano nella traduzione della CEI porta il seguente titolo Assemblea celebrante Titolo che viene ad essere attinto da quello che chiamiamo il prefazio della Messa Crismale Laddove in questo splendido testo troviamo Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei credenti E' su questo tema che innesterò le riflessioni che mi accingo a presentare Dopo aver fissato lo sguardo su Gesù Agnello immolato e risorto Nei segni del pane spezzato E del vino versato Il messale di Paolo VI nella sua terza edizione Ci invita a ripensare la Chiesa Plebs sancta adunata In unitate patris Et fili et spiritu santi E' una splendida affermazione di San Cipriano Cioè la plebs santa Il popolo santo Che è radunato Nell'unità del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Sicché partecipando Da parte di coloro che stanno attorno all'altare E di fronte all'altare Ossia i soggetti Recuperando così La soggettualità di tutti i Cristi Fideles Resitali dal Battesimo Ci fa entrare nel vivo Di una questione davvero evidenziata Ecco dalla riforma liturgica E' una caratteristica quella Questa della teologia post conciliare L'aver messo in luce La fontalità del sacramento Della rigenerazione A partire dall'unico sacerdozio di Cristo Come parla la Lumen Gentium 10 E' ben recepita dal messale romano Nei suoi testi e nei suoi principi Pertanto tutti i fedeli A qualunque stato di vita appartengano Presbiteri Laici Consacrati Proprio in forza Della consacrazione battesimale Sono resi partecipi Dell'ufficio sacerdotale Profetico E regale Secondo la Lumen Gentium 31 Ciò sta a significare Che noi presbiteri Non possiamo sentirci Ed essere considerati Dei super battezzati Pienamente consapevoli Che il popolo di Dio Precede Il nostro stesso ministero ordinato Si da far dire a San D'Ambrogio Tutti i figli della Chiesa Sono sacerdoti Noi infatti Veniamo unti Per formare un sacerdozio santo Questo recupero teologico Messo in luce Nel prefazio della Messa Crismale Costituisce Un punto di svolta Direi basilare Per la dignità fontale Dei battezzati Per la quale Dignità fontale I battezzati I battezzati Sono soggetti attivi Co-costituenti Il noi ecclesiale Ossia partecipi Della missione messianica Del popolo di Dio Lumen Gentium 9 Sicché L'appartenenza Al popolo tutto sacerdotale Nel pensiero della prima lettera di Pietro E l'esercizio del sacerdozio Dell'esistenza Concreta della vita Secondo Romani XII Sono correlati Al senso Della partecipazione attiva In particolare Alla celebrazione eucaristica Evento relativo E attuativo Della manifestazione Della Chiesa Sì Da poter parlare Di assemblea Celebrante Ovvero Soggetto Dell'azione liturgica E convinzione teologica Questa Racchiusa Proprio nel termine classico Dell'antichità liturgica La Sionaxis Parola Che vede Il coinvolgimento Di tutti Attraverso Gli uffici E i ministeri Nei quali I singoli membri Vi sono interessati In diverso modo Secondo La diversità degli stati E dei compiti In questo modo Il popolo cristiano Stirpe Eletta Sacerdozio Regale Nazione Santa Popolo Che Dio Si è acquistato Manifesta Il proprio Coerente E gerarchico Ordine Perciò Tutti Sia ministri Ordinati Sia fedeli Laici Esercitando Il loro Ministero O ufficio Compiano Solo E tutto Ciò Che è di loro Competenza Romano Guardini L'italo Tedesco Filosofo Poeteologo Fin dal 1935 Nello spirito Della liturgia Amava Scrivere Nella liturgia Non è il singolo Che agisce E prega Il soggetto L'io Della liturgia E piuttosto L'unione Della comunità Credente Come tale Gli fa eco Papa Francesco Quando Affermando Che la liturgia È vita Per l'intero Popolo Della Chiesa Dice Testualmente Per sua natura La liturgia È infatti Popolare E non Clericale Essendo Come insegno La etimologia Un'azione Per il popolo Ma anche Un'azione Del popolo Come ricordano Tante preghiere Liturgiche È l'azione Che Dio stesso Compie In favore Del suo popolo Ma anche L'azione Del popolo Che ascolta Dio Che parla E reagisce E reagisce Lodandolo Invocandolo Accogliendo L'inesauribile Sorgente Di vita E di misericordia Che fluisce Dai santi segni Da ciò Si arguisce Che non solo Il sacerdote Che presiede Ma anche Tutta l'assemblea È soggetto A pieno titolo Di ogni Celebrazione Liturgica Questa Portata Popolare Della Liturgia È espressa In una prima rubrica Dell'ordinario Della Messa Laddove Il messale Romano Scrive Quando Il popolo È radunato Il sacerdote Con i suoi ministri Si reca All'altare Mentre Si esegue Il canto Di ingresso Ed è proprio Per questo Che il nuovo Messale Nella sua Traduzione Parla Esattamente Di una Dimensione Inclusiva E non Esclusiva E perciò Si parla Sempre Di fratelli E sorelle E come tale Di uomini E donne Partecipanti Alla Synaxis Alla luce Di queste Considerazioni Si comprende Allora Che la Celebrazione Della messa Con il popolo Deve diventare In se stessa La manifestazione Di un'assemblea Gerarchicamente Ordinata Che si attua Nella Pluralità Dei compiti Attraverso I quali I singoli Ministri Si svestono Della loro Funzione Coriografica Per diventare Espressione Visibile Di una Chiesa Serva Chiesa Serva In quanto Corpo Di Cristo L'attenzione L'attenzione Riservata All'assemblea Celebrante Dal messale Romano Nella sua terza Edizione È tale Da Normare Il seguente Principio Che mi Sembra Molto Importante Anche per Noi sacerdoti E per voi Che mi Ascoltate Nel preparare La messa Il sacerdote Tenga presente Più il bene Spirituale Del popolo Di Dio Che la propria Personale Inclinazione Si ricordi Anche Che la Scelta Di queste Parti Si deve fare Insieme Con i ministri E con coloro Che svolgono Qualche ufficio Nella celebrazione Senza Escludere I fedeli In ciò Che li Riguarda Direttamente Altresì Dovendo L'assemblea Celebrante Assumere Un ruolo E svolgere I relativi Compiti L'ordinamento Del messale Romano Auspica Che i fedeli Nelle celebrazioni E degli eventi Liturgici E della Messa in Specie Formando Un solo Corpo Siano Guidati E mossi Da un Profondo Senso Religioso E da carità Verso i Fratelli Che vi Partecipano Evitino Ogni Forma Di Individualismo E di Divisione E non Rifiutino Di servire Con gioia Il popolo Di Dio Ogni volta Che sono pregati Di prestare Qualche Ministero Direi Che questo È un bel Programma Per il popolo Celebrante Per i fedeli E per tutti Quanti noi Che presidiamo E se fosse messo In atto Da tutti Davvero Riscopriremo Questa bellissima Dimensione Dell'Assemblea Celebrante Continuiamo Allora A sfogliare Il messale Romano Con il suo Ordinamento Al fine Di prendere Coscienza Delle ricchezze Ivi Contenute Ben sapete Che la messa È costituita Da due Parti La liturgia Della parola E la liturgia Eucaristica Esse Sono Indissolubilmente Congiunte Attraverso Il lezionario E il sacramentario Il messale Sì da formare Un unico Atto Di culto Perché i fedeli Ne ricevano Istruzione E ristoro Proprio per questo Viene Imbandita Tanto La mensa Della parola Di Cristo Di qui Allora La necessità La necessità Che Alcuni Tra i fedeli Componenti La plebs Santa Abbiano Ad assolvere E a svolgere Il compito Di Proclamare La parola Dall'ambone 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 E servire All'altare Mensa Del corpo E sangue Di Cristo Detti servizi Sono presenti E ben documentati Ben documentati Dall'antichità E dalle fonti Liturgiche Antiche In tal senso E' bello Sapere Che la Chiesa Ha sempre Venerato Le divine Scritture Come ha fatto Per il corpo Stesso Di Cristo Non Mancando Mai Soprattutto Nella Sacra Liturgia Di nutrirsi Del pane Della vita Della mensa Sia Della parola Di Dio Che del Corpo Di Cristo E di Porgerlo Ai fedeli E' presa Questa citazione Dalla Dei Verbum Sul valore Della parola Del Signore Nella Chiesa La parola Di Dio Quindi è Venerabile Come il corpo Di Cristo La mensa Delle sante Escritture Come quella Dell'Eucarestia Offre Ai fedeli Uno stesso Ed unico Signore Tant'è Che Chi Si comunica Alla parola Come Chi si Comunica Al pane Di vita Partecipa Al Cristo Gesù Signore La parola Dunque Crea L'Eucarestia E L'Eucarestia Proclama La parola Questo Principio Teologico Viene Ben messo In evidenza Dalla terza Edizione Del messale Romano Quando Prima di Distribuire La comunione Viene Riproposto E ricordato Ai fedeli Un frammento Dell'Evangelo Evidenziando Così L'attualizzazione Della parola Dando Così Forma Rituale All'insegnamento Conciliare Del nutrirsi Del pane Di vita All'unica Tavola Della parola Di Dio E alla tavola Della Eucaristia Volendo Richiamare L'estrema Importanza Della parola Nella celebrazione Affidato Al lettore Alla Lettrice Istituito O De facto Deve essere Ricordato Che la parola Non va Letta Ma va Proclamata E in quanto Essa Non è fine A se stessa Il suo scopo È realizzare La comunione Degli uomini E delle donne Con Dio Ovvero Il loro ingresso Il loro ingresso Nell'alleanza D'amore Di cui L'Eucaristia È il Pegno A ricordarcelo È il Concilio Quando Afferma Nella liturgia Dio parla Al suo popolo E Cristo Annunzia Ancora Il suo Evangelo Il popolo A sua volta Risponde Con il canto È nella Preghiera In questo Dialogo Salvifico Ci richiama Ancora Il concilio Cristo È presente Nella sua parola Già che È lui Che parla Quando Si Legge Quando Si proclama La sacra Scrittura Sacro Sanctum Concilium Sette Grave È il compito Del lettore O della Lettrice Nell'atto Di salire Sul lambone Icona Spaziale Del mistero Del signore Risorto Sulle sue Labbra E nella Sua voce L'assemblea Deve poter Scorgere Il suono Emesso Dalle stesse Labbra Del sempreveniente Che non Sta A raccontare Cose Ed eventi Del passato Ma sta Rivolgendosi A tutti E a ciascuno Nella Presenzialità Del qui E ora Il lettore Come la Lettrice In quanto Araldi Di una Parola Che non è Sua Non è la Loro Ma di colui Che lo Manda E la Manda A svolgere Tale Compito Non deve Far cadere Nel vuoto Nessuna Parola E nessun Frammento Di essa Di qui La grave Responsabilità Della preparazione E della Interiorizzazione Del messaggio E dei suoi diversi Codici espressivi Della Proclamazione Da svolgersi Sempre Attraverso Il libro Del lezionario Ci serva Come grave Ammonimento La lezione Di Rabbi Akibah Ben Yosef Che illuminò Con la sua Scienza E la sua Pietà La comunità Giudaica Dopo gli anni Settanta Ma anche Egli fu Davvero Un magnifico E salutare Esempio A tanti Di ieri E di oggi Chiamati A proclamare La parola Dice Questo testo Di Rabbi Akibah Ben Yosef Successe Che un giorno Il capo Della sinagoga Chiamasse Rabbi Akibah Per fare La lettura pubblica Della Torah Davanti Alla comunità Ma egli Non volle salire Sul pulpito Dove si trovava Il leggio Per la lettura I suoi discepoli Gli dissero Nostro maestro Tu non ci hai Insegnato così La Torah Per te È vita È lunghezza Di giorni Perché Hai rifiutato Di agire Di conseguenza Egli rispose Per Il culto Del tempio Ho rifiutato Di leggere Unicamente Perché Non avevo Scorso Prima Il testo Almeno Due O tre Volte Poiché Un uomo Non ha Il diritto Di proclamare La parola Della Torah Dinanzi Alla comunità Alla comunità Se lui stesso Non le ha lette Precedentemente Due O tre Volte Un messaggio Di grande Attualità Nei confronti Di certe improvvisazioni E di certe E di certe superficialità Con cui Si va A proclamare All'assemblea La parola Eterna Del Signore L'unità Ma ciò si evince Altresì Che nessun'altra parola umana Potrà entrare in contestazione E in competizione con essa Ne ci sarà mai consentito Togliere O aggiungere Sostituendo Il testo sacro Con documenti Quando anche Dovessero essere Ecclesiastici O Articoli Di attualità Di giornali O di riviste Memori Che il lezionario E il messale Sono libri Che esprimono Concretamente Il segno Di unità Della Chiesa Orante E' stato scritto E detto Dai nostri mezzi Di comunicazione Che il messale Romano Non è solo Del prete Che lo usa All'altare Ma è Della comunità Giustissima Riflessione Anzi Esso E' scuola Per la comunità Così scrivendo E dicendo Si è inteso Tradurre Giornalisticamente Quello che Teologicamente Assediamo Con il termine Assemblea Celebrante Di essa Abbiamo infatti Evidenziato Il ruolo Il ruolo Del lettore Nel servizio Della proclamazione Della parola Non di meno Il messale Con il suo ordinamento Generale Prevede Altri compiti Assegnati Al popolo Di Dio Trattasi Di Ministeri Laici In aiuto Al sacerdote O al diacono Ve li ricordo Chi porta La croce I ceri Il turibolo Il pane Il vino L'acqua E tra essi Anche Chi è Incaricato Come ministro Straordinario Della comunione Il salmista Il cui compito È proclamare O cantare Il salmo Che si trova Tra le letture Esercita Un servizio Liturgico Anche Il sacrista Che prepara Dirigentemente Tutto ciò Che è necessario Nella celebrazione Della messa Il commentatore Che secondo L'opportunità Rivolge Brevemente Ai fedeli Spiegazioni Ed esortazioni Per tradurli Poi Nella celebrazione Coloro Che svolgono Anche il compito Di raccogliere Le offerte Durante la celebrazione Coloro Che accolgono I fedeli Alla porta Della chiesa Soprattutto I disabili Per i propri Ecco Per poterli Poi disporre Ai propri posti Come potete pensare C'è spazio Anche Per tutti Anche per un ministro Competente Che deve Essere chiamato Maestro Delle celebrazioni Liturgiche Una volta Si chiamava Cerimoniere Incaricato Incaricato Di predisporre Con cura I sacri riti Il nostro Messale Rinnovato Nella sua terza edizione Riserva Una considerevole Considerazione E ampio spazio Al canto Sì da poterlo Qualificare Come il messale Più musicale Uno slogan Giornalistico Questo Che rivela Un ulteriore Arricchimento Del lavoro Compiuto In questa terza Edizione Del messale Di Paolo VI Una delle novità Da segnalare È l'importanza Che viene riconosciuta Al canto Nella celebrazione Eucaristica Una vera opportunità Per riscoprire Il suo valore In quanto Esso Non è Un mero Elemento Ornamentale Ma parte Necessaria E integrante Della liturgia Solenne L'azione liturgica Infatti Riveste Una forma Più nobile Quando I rivini Uffici Sono celebrati Con il canto Con i sacri ministri E la partecipazione Attiva Del popolo E allora I dialoghi Tra i sacerdoti E i fedeli Riuniti E le acclamazioni Non sono solo Segni esteriori Della celebrazione Comunitaria Ma favoriscono E realizzano La comunione Con colui Che presiede E il popolo Per questo È stato Particolarmente Valorizzato In questo Messale Alcune Ecco Considerazioni Molto preziose Di Melodie Poste Nel corpo Della medesima Celebrazione Preseduta Dal presbitero E quindi Questo Un vero e proprio Arricchimento E su questo fondale Direi Teologico Liturgico Che il messale romano Con il suo ordinamento Viene a farci presente Che tra i compiti Del popolo Di Dio All'interno Della celebrazione Ce n'è Uno Molto Sentito Dalle nostre Comunità Parrocchiali La scola Cantorum O i cori Parrocchiali Tant'è Che Tra i fedeli Essa Scola Cantorum Esercita Un proprio Ufficio Liturgico Il cui Compito È quello Di Eseguire A dovere Le parti Che le sono Proprie Secondo I vari Generi Di Canto Con lo scopo Specifico Di Promuovere La partecipazione Attiva Dei fedeli Nel Canto Proprio per questo Il coro Non Usurpi Il diritto Nativo Espresso Dalla Classica Formula Che Il popolo Canti Anche Perché Vera Solennità Di un'azione Liturgica Non dipende Tanto Dalla forma Più ricca Del canto O Dall'apparato Più fastoso Della Cerimonia Quando Piuttosto Dell'apparato Più degno Di una Di una Celebrazione Che deve essere Sempre Espressione Della Epifania Del Mistero Bene Cari Fratelli Sorelle Che mi Ascoltate Il Finis E la Causa Finale Della Espressione Corale Del canto Nella Celebrazione E la Gloria Di Dio Mentre Nell'unità Dei cuori E delle voci La stesa Celebrazione Diventa Prefigurazione Bellissimo Questa Dimensione Di quella Liturgia Che si Svolge Nella Gerusalemme Celeste E allora Per questo I vari Protagonisti Di questo Ambito Musicisti Compositori Direttori Di Eccoristi Abbiano A comprendere La loro Missione Piace Ricordare E chiudo Quello Che Davvero Può Essere Dato Come Messaggio A tutti Quanti Noi Che siamo Attenti A queste Dimensioni Teologiche Liturgiche Piace Ricordare Che per secoli La musica È stata Sorella Della Liturgia E quindi Della Fede Infatti Non per Nulla La tradizione Giudaica La tradizione Giudaica Biblica Ci mette Davanti Questo Bellissimo Riferimento Al capitolo 28 Della Genesi Laddove Gli angeli Ecco Si fossero Dimenticati Di ritirare La scala Sulla Quale Era Discesa Erano Discesi Lungo Ecco Per Incontrare Esattamente L'annuncio Che dovevano dare Per aver Annunziato La promessa Divina Quella scala È rimasta Così sulla Terra Ed è la scala Musicale Le cui note Sono come Gli angeli Di Dio Che permettono Agli uomini E alle donne Di Ascendere E di Entrare Nel Mistero Di Dio Ogni volta Allora Che noi Eseguiamo Un canto Adoperiamoci A dare Alla liturgia Tutto lo spazio E il tempo Di cui Essi Hanno bisogno Non ci sia Nulla In essa Di troppo Pesante E opprimente Né i suoni Né i protagonisti Lasciamoci Allora Guidare Dalla parola Di Dio Perché Nel tempo E nello spazio Devono poter Permettere Che perfino Gli angeli Si intrufoli No Nelle nostre Azioni liturgiche Per farci Risentire Le melodie Del cielo Sulla terra Ce lo auguriamo Questa presenza Musicale Proprio attraverso Il ruolo Degli angeli Che notte e giorno Cantano E inneggiano Al Signore Il risorto E il vivente Degli angeli